Musica Benvenuti a una nuova edizione del Tg Oristanese, apriamo con la cronaca. Un vasto incendio divampato questo pomeriggio sulla strada provinciale di Eccitra, San Velomili, Sirio e Lassardo. Impegnate diverse squadre della forestale, di forestas, dei vigili del fuoco e i volontari. La base della forestale di Fenuso ha richiesto l'intervento di mezzi aerei. Presenti anche due pattuglie dei carabinieri per blocco strada provinciale 10 a livello precauzionale. Intanto a Fenuso in arrivo l'elicottero Super Puma e dettagli nel servizio di Laura Marchi. In Sardegna, contro i roghi più pericolosi, saranno 5 i mezzi aerei della protezione civile che potranno essere utilizzati. Uno di questi mezzi aerei sarà dislocato proprio nella base della forestale di Fenuso. Il suo arrivo è previsto entro il 20 giugno, come disposto dalla protezione civile nazionale. La base oristanese della forestale ospiterà uno dei Super Puma, un elicottero che può scaricare sulle fiamme massicce quantità di acqua. La struttura nazionale ha confermato quindi l'arrivo in Sardegna di 5 mezzi aerei, 3 Canadair e 2 Super Puma che saranno d'ausilio agli elicotteri noleggiati dalla regione. Ancora cronaca. La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 45 anni, ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia. I dettagli nel servizio. La Polizia di Stato di Oristano, su disposizione del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari, ha tratto in arresto un pregiudicato 45 anni oristanese, poiché è reso irresponsabile del reato di maltrattamenti in famiglia e i danni dei genitori anziani. L'uomo, già condannato in appello la pena di 4 anni e 8 mesi di reclusione, in quanto a suo tempo si era reso responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e violenza sessuale commessi in pregiudizio della compagna, anche in presenza dei figli minori, si trovava a scontare il residuo di pena in stato di detenzione domiciliare presso la casa dei genitori. Nonostante la condanna già inflitta nei suoi confronti, il 45enne frequentemente in stato di alterazione per l'abuso di alcol non lesinava insulti nei confronti dei suoi genitori che lo avevano riaccolto in casa, in particolare nei confronti del padre, che veniva pesantemente offeso e di frequente aggredito, sia verbalmente che fisicamente, nonché minacciato anche di morte, sino a quando lo stesso, temendo fortemente per la sua incolumità e per quella dell'anziana moglie, allettata e invalida, non si è deciso a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine. La struttura di medicina convenzionata di Ares Sardegna ha riaperto i termini di aggiornamento delle graduatorie aziendali distinte per ASL di medici aspiranti al conferimento di incarichi provvisorio di sostituzione di medici titolari a tempo indeterminato, disponibili al completamento orario a 38 ore settimanali nella continuità assistenziale per l'anno 2024. I medici interessati hanno tempo fino alle ore 23.59 del 30 giugno 2024 per iscriversi o aggiornare i requisiti. Cambiamo argomento. Emergenza Stagni dell'Oristanese, giovedì 27 giugno, incontro in Regione. Sentiamo la nota di Paolo De Zogus. Sostenuti da una robusta campagna di stampa che ha denunciato le condizioni in cui versano gli stagni e le lagune dell'Oristanese, i pescatori dei compendi ittici sono stati convocati in Regione per giovedì. Saranno ricevuti dagli assessori all'agricoltura Gianfranco Satta, che ha la titolarietà anche per la pesca e dall'assessore all'ambiente Rosanna Laconi. Una convocazione, come si è detto, che avviene sotto la spinta di una campagna di stampa che ha inizialmente denunciato la moria di specie ittiche che ha desertificato lo stagno di Senarrubia, anche da quelle avifaunistiche che la popolavano una decina di specie che l'avvelenamento delle acque ha allontanato e costretto alla migrazione. Difficile prefigurare quali saranno i risultati dell'incontro, considerando anche il fatto che i due assessori sono freschi di nomina ma non i funzionari che operano nelle strutture dei due assessorati non a digiuno di queste problematiche, ma il punto resta un piano e un progetto di interventi dotato di finanziamenti necessari avente una cabina di regia che coinvolga università e centri di ricerca. Il 21 giugno alle ore 9 presso l'hotel Mistral 2 Cittadinanza Attiva organizza il convegno sul tema Caregiver Familiari. Chi si prende cura di loro? È stato firmato il protocollo di intesa a spiagge sicure tra il Comune e la Prefettura. I dettagli nel servizio di Laura Marchi. Un rinforzo dell'organico della Polizia Locale con assunzioni a tempo determinato, telecamere per sorvegliare le spiagge, i mercati e i pubblici esercizi nelle località costiere di Cugliari è quanto prevede il protocollo di intesa a spiagge sicure 2024, siglato dal prefetto di Ristano Salvatore Angeri e dal sindaco di Cuglieri Andrea Locche. Il Comune di Cuglieri è tra i 50 beneficiari di un finanziamento di 30.000 euro messi a disposizione dal Ministero dell'Interno per la sicurezza urbana. Un contributo strategico che garantisce risorse aggiuntive al bilancio comunale e conferma l'attenzione del Viminale per le esigenze di sicurezza urbana dei territori. Così lo ha definito il prefetto durante la seduta del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il prefetto ha espresso apprezzamento per l'impegno dell'amministrazione comunale ad investire in sicurezza e ha ribadito l'importanza strategica della videosorveglianza nella prevenzione e repressione della criminalità diffusa, strumento imprescindibile per accrescere la sicurezza percepita e reale anche nei piccoli centri. Misure importanti quindi per contrastare l'abusivismo commerciale e la vendita di prodotti contraffatti, fenomeni illegali che si intensificano nel periodo estivo, danneggiando il sistema economico e minacciando la salute dei consumatori. Il prefetto ha chiamato al tavolo anche altri sindaci dei comuni costieri della provincia per un'azione di sensibilizzazione. Saranno inoltre pianificati e mirati i servizi di controllo lungo tutti i litorali e le borgate marine con il concorso delle polizie municipali. Riunione in prefettura sulla sicurezza di due edifici pubblici in cattivo stato di conservazione nel centro di Santa Giusta. Durante l'incontro sono stati esaminati gli interventi tecnici atti alla messa in sicurezza delle strutture denominate Tettoglia del Mercato e Stale dell'ex Genio Civile. Il percorso partecipato sul piano urbano della mobilità sostenibile prosegue con due questionari rivolti agli studenti delle scuole superiori e ai residenti nel centro storico di Oristano. Scadenza 20 giugno. Sentiamo il servizio. Ultimi giorni per le due nuove consultazioni pubbliche lanciate dal Comune di Oristano in vista dell'adozione del PUMS, Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. Uno strumento di pianificazione strategica di medio-lungo periodo, dieci anni, fondamentale per il raggiungimento di obiettivi raggruppabili in quattro macro-aree. Efficace ed efficienza del sistema di mobilità, sostenibilità energetica ed ambientale, sicurezza della mobilità stradale e sostenibilità socio-economica. A tutti si chiedono segnalazioni e valutazioni utili alla definizione di un piano che ha una valenza strategica per la città. Ha precisato il sindaco Massimiliano Sanna, il percorso partecipato è importante per uno strumento che nasce per essere realmente a misura di cittadino. Oltre 200 studenti hanno già accolto il nostro invito e hanno compilato il questionario online. È una partecipazione ampia che testimonia l'interesse alla tematica da parte delle giovani generazioni. Ma proprio perché ci rendiamo conto di questo interesse abbiamo coinvolto anche la consulta giovani nell'azione di diffusione del questionario. La risposta, purtroppo, non è stata altrettanto positiva da parte dei residenti del centro storico. A oggi solo una cinquantina di cittadini hanno compilato il questionario. Anche in questo caso abbiamo sollecitato una più ampia partecipazione, ha aggiunto l'assessore alla viabilità Ivano Cucu. Ora sentiamo la nota di Paolo De Zogus su Piazza Mariano. Le immagini sembrano più documentari. Un tratto della striscia di Gaza coinvolta nelle distruzioni di questi mesi conseguenti agli scontri armati e ai bombardamenti che si susseguono in questo martiriato luogo. Invece, paradossalmente, siamo ad Oristano in quella che era Piazza Mariano, rivoltata da cima a fondo con scavi e posa in opera di cavi diversi, tutto indispensabile e necessario al vivere civile. Ci sono certo tempi contrattuali da rispettare, oneri finanziari in continua mutazione, ma detto questo, alcun pensiero viene rivolto alle attività commerciali, che anche in questo luogo vengono svolte, alcune delle quali messe in ginocchio. Ci spostiamo a Cabras. Attivo il servizio del pontile galleggiante di Maremorto. È attivo il servizio del pontile galleggiante di Maremorto, inaugurato per la prima volta nel 2021 dall'amministrazione comunale di Cabras tramite l'area marina protetta penisola del Sinis, isola di Maldiventre. Sono 92 gli utenti che usufruiranno del servizio, i quali hanno partecipato al bando per l'ottenimento dell'autorizzazione all'ormeggio nel campo BOE. Le domande a sportello pervenute agli uffici sono state circa 120, superiori all'attuale capacità comunale. Per questo motivo abbiamo lavorato per l'ottenimento di un finanziamento del Piano Nazionale dei Ripresi Resilienza, utile a incrementare ulteriormente il numero dei posti disponibili. Nella prossima stagione avremo un incremento del numero di BOE, che a Maremorto passerà da 92 a 150, alle quali si aggiungeranno altre 50 BOE tra Capo San Marco e Maldiventre. Il pontile galleggiante costituisce un punto di riferimento nell'ambito dei servizi alla nautica, ha affermato il sindaco Andrea Abis. Nell'area è presente anche il boxo utilizzato dall'addetto che si occupa di garantire il presidio di sicurezza dell'area e dell'assistenza all'ormeggio. Il servizio che avrà una durata di 90 giorni è attivo sette giorni su sette, dalle ore sette alla mezzanotte. Sarà poi presente un operatore dotato di defibrillatore per la rianimazione e il primo soccorso. Intanto è in corso la manutenzione del sollevatore a bandiera dedicato alle persone con difficoltà motoria, che dalla prossima settimana avranno la possibilità di accedere comodamente all'imbarcazione. Mercoledì 19 giugno, alle ore 18, presso il Centro Servizi Culturali Ulla di Oristano, si terrà la presentazione del libro Maestre dell'Università sconosciuta di Bastiana Madau, dialogherà con l'autrice Gabriele Calvisi. E questa era l'ultima notizia del nostro appuntamento con l'informazione. Grazie di essere stati con noi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.